benvenuti in un podcast di voci in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco in mondi affascinanti ed immaginari un podcast di appassionati curiosi e sognatori un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace io sono antoni benvenuti su gente di ruolo it's my turn to extract però se mi dai uno shuffle certo ci siamo avvicinati nuovamente e definitivamente a colonia siamo all'ultimo passo prima di arrivare qui le caratteristiche dell'alto sono bellissime siamo al passo 1 quindi vado di estrazione dal destino siamo abbonati a questo seme spade quindi brutalità o punizione quanto male le altre posso dirti a confronto erano leggere perché erano minaccia perdita e paura tutte cose incombenti ma non imminenti qui invece siamo proprio sull'immediato su spade in mano esatto brutalità e punizione vai dario scegli io mi sento un punizione addosso però se vi piace brutalità sono molto lì tanto arriviamo il brutale sono sicuro esatto le punizioni saranno brutali perché fare solo brutalità quando puoi fare punizione e brutalità punizione allora fatta punizione allora per leggere il sentimento e il passo punizione stabilire la domanda del turno quindi estrago aspetta che faccio un recall yes vai row one uh un seme nuovo per me il sette di coppe bella questa che corrisponde a un no bellissimo sei un infiltrato chi lo ha scoperto e come a te ti capita questa è fantastica perché tutti pensavano che il francese avesse intrallazzi quando aspetta in realtà in realtà Mattia aveva detto qualcosa di darti della paga dei soldi lo capiremo lo capiremo e soprattutto posso dire pescarla nel round di cui c'è come sentimento punizione punizione è tutto bellissimo è tutto bellissimo il sette dice che nevica giustamente così nevica va bene scusate che ce ne sto cercando di quadrarla si 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 ci sta ci sta non è facile ok cambiamo sparigliamo un po' le carte nevica e come è giusto nevica tanto è presto al mattino saranno le sei e mezza sei e quarantacinque più o meno quindi c'è luce c'è quel riflesso fastidioso sulla neve che però viene oscurato un pochino dalla piccola bufera che c'è attorno al campo siamo ormai in un territorio abbastanza avanzato quindi la guardia è anche abbastanza attenta però con la neve dieci passi ti portano in un mondo che fino a dieci passi prima non vedevi chi sono questa volta niente francesi ormai il gioco si divide in gioco con francesi e gioco senza francesi è chiaro le scene sono divise in due c'è Volkmar che sta aiutando a portare qualcosa con quello che volete possono anche essere degli enormi otri a un certo punto mentre parlottate in mezzo alla bufera fate qualche passo e vi ritrovate di fronte a Alberico in un piccolo spiazzo di nulla che ha un giovincello di 15 anni inginocchiato di fronte a lui e gli ha appena appoggiato un'accetta alla gola stavano in qualche modo litigando o parlando nel momento in cui però si avvede della vostra presenza e voi vi vedete della sua c'è un attimo di stallo Conrad fa cadere la catasta di legno che stava portando insieme a a Volkmar da quanto ho capito si andava a fare la colazione probabilmente rimane un po' interdetto e fermo guarda prima il ragazzo poi guarda Alberico e con tono paterno dice ad Alberico visto che in un qualche modo lo ha preso in affetto visto che ha servito con suo padre gli dice questa cosa assurda ok gli dice Alberico questo non è un albero Alberico saetta con lo sguardo sui due e poi osserva il ragazzo che va per parlare Alberico gli molla un ceffone di mano rovescio spaccandogli un labbro questo cade a terra rotolando macchiando con il sangue Volkmar prende per il polso Conrad e dice lascia stare non sono cose nostre a qualcuno e ti fa un gesto con la mano come per dire sai cosa intendo lasciamoli agli affari loro va punito è chiaro l'ho visto scambiare qualcosa quando si rimette ad alzare lentamente i ciocchi che ha fatto cadere si rimpila in braccio mentre tu ti appendi da solo perché stai spiegando una cosa che non ti avremmo mai chiesto nulla eh sì ma ti chiedo di approfondire di panico ti chiedo di approfondire dimmi cosa c'è nel nel ragazzo che è fuori posto nel senso boh i vestiti un emblema un un blasone un semplicemente l'affoggia come dire la provenienza che che può magari farne capire l'estrazione sociale cioè perché non è semplicemente il che ne so il figlio del fattore che abita a cinque chilometri dal qui cosa c'è di particolare ok domanda sul tuo approfondimento cerchi qualcosa che lo distingua dagli altri o un motivo per cui potrebbe essere più la mia domanda che è una copertura c'è c'è un qualcosa che ci fa che ci dia un un sentore tangibile che tu non hai pigliato un ragazzetto delle campagne e te lo volevi ingroppare e sono affari tuoi cioè nel senso che ok giusto 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 cioè questo è un paggio è un cos'è che lo rende fuori luogo se lo rende fuori luogo perché se non è fuori luogo cioè voglio capire come la come la sta vedendo l'animo semplice non vi ricordate non vi ricordate di chi sia il servo o il paggio ma a qualche passo anche se stanno venendo coperte della neve abbastanza in fretta ci sono un paio di scatole una di legno una di vimini e delle pergamene delle pergamene arrotolate come se gli fossero cadute e vi ricordate di averlo visto passare varie volte a portare incartamenti o a comunque fare piccole commissioni ok quindi diciamo orbita è vestito bene orbita intorno alla nostra compagnia ma non è della nostra compagnia esatto ok aspetta ma alberico ma tu mica non sapevi leggere te lo dice te lo dice ma tu mica non sapevi leggere così con dato di fatto sai come se non stesse succedendo nulla vedendo queste cose mentre impila la legna siete testimoni anche voi no l'avete visto no il soldato l'uomo che si è allontanato stavano parlando gli ha consegnato qualcosa che cosa gli hai consegnato gli molla un altro manrovescio prima che lui stia per controbattere ma peserà 40 kg sto ragazzino e Volkmar si sente preso in causa tutto rosso e ti dice cosa intendi dire Volkmar cosa intendi dire Corrad e cerca sotto il farsetto e tira fuori la sua pergamena e dice mica bisogna saper leggere per avere dei documenti se sulla tua pergamena c'è solo una X e dopo la ripiega la mette via cioè come per dire che cos'è che sta fregnaccia anche lui anche se non sa leggere Conrad e Volkmar giusto? L'avete visto? Siamo d'accordo no? Sì lo sto vedendo lì a terra che sta fregnando no no non il ragazzino il ragazzino deve essere punito bisogna fare in modo che li osservi per un attimo che Dio porti signore della croce per redenzione a chi ha cercato di tradire a chi ha cercato di tradire il rosso che non va tradito tu quando dici il rosso si fa il signore della croce Conrad non quando menzioni Dio il ragazzino sta piangendo disperato solo che ha il labbro spezzato e la faccia gonfia portiamolo al campo gli alfieri del rosso sapranno che farne no 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 sono io ad averlo scoperto l'onore deve essere mio è il dovere l'onore è il dovere da buon cristiano voi l'avete visto stava parlando con un soldato siamo tutti d'accordo va punito proseguite proseguite me ne occupo io ci vediamo al campo a Conrad riprende l'ultimo coccio guarda cosa vuole fare Volkmar Volkmar sta tirando sulla legna e si è fatto un paio di volte il signore della croce facendo cadere della legna che aveva in mano per quel che lo riguarda quello è un superiore e saprà cosa sta facendo sicuramente meglio di io che sono addetto a recuperare la legna per la colazione tira su tutto e poi si gira ancora guardando la pila di probabilmente pergamene che sono cose probabilmente che danno un senso di lusso di di queste cassette con intarsiate magari eccetera giusto semplicemente perché è un bello oggetto ma senza capirne il significato e dopo fa spallucce per me la scena si chiude come si è aperta con la telecamera che segue il cuoco e il contadino che si allontanano si sentono solo i lamenti per qualche istante del ragazzino e poi quello che un occhio un orecchio allenato riconoscerebbe come un colpo d'accetta che colpisce un osso si sente il primo già il secondo è quasi inghiottito dalla bufera il terzo si sente solo la neve che che vortica wow che allegria che allegria che belle persone che belle persone sicuramente ma comunque vedo una vedo comunque una dinamica di potere e rango un pochettino cioè nel senso a parte che siamo comunque camerati però nel senso vedo comunque da quanto ho capito Alberico è comunque un pochettino più ben messo è un mercenario lui giusto? beh sì diciamo che forse non ha di fatto potere suo di voi però è uno di quelli che sa combattere e ha un equipaggiamento quindi forse agli occhi di Volkmar soprattutto è uno che sai cosa agli occhi di Volkmar tu sei come Mattie uno di quelli che entrano ed escono dalla tenda degli alfieri no? cioè io mi immagino che ci sia comunque un qualche tipo di comando da parte del Rosso su questa cioè la tenda degli ufficiali diciamo che magari sono due persone no? e che non è nessuno di noi e tu alla fin fine sei probabilmente comunque una pedina abbastanza importante che loro ti parlano e ti danno ordini e ti fanno fare cose e quindi per me tu sei un ufficiale ci può essere per esempio che io sia il punto di riferimento di quei sparo a caso 4-5 esterni esterni della mia compagnia mercenaria che si era unita qui essendo magari il più anziano sono il riferimento per i contractors esatto mi sa che avevi risparmiato la vita a Conrad dunque magari ha chiuso un occhio o due anche per questo e poi comunque abbiamo del passato da ubriacate insieme direi che il tema del passo c'era e anche la risposta alla domanda di turno esatto chi l'ha scoperto in prima battuta è morto voi due tecnicamente potreste aver comunque avuto un hint voi due non ancora e credo in questa guerra a questo punto la interpreto come un no perché in realtà sto facendo il doppio gioco probabilmente o forse no chi lo sa chi lo sa però evidentemente non remo nella stessa identica direzione di tutti gli altri bene 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 quindi rispondi no ed aggiungi uno al tuo sconforto yes fabio volta la carta volta la carta e c'è mazzo del destino abbiamo un sette di spade scusate hai scoperto un infiltrato no sono io no vabbè colpo di scena le due carte di fila ragazzi sono impagabili però in questo caso è Volkmar ma come in realtà sai non sei l'unico questa compagnia è un disastro un cesto di cobra ma magari è quello a cui serve nel senso che serve semplicemente come specchietto per le allodole per far qualcos'altro quindi che ne so l'hanno fatta apposta facendo la facendo finta che sembrasse importante in modo che la gente ci buttasse dentro interesse e spie e risorse per capire cosa cazzo vanno a fare queste colonie sai te i piani del rosso vai fabio setta il quando il come comunque sette nevica ancora nevica di brutto quindi non siamo molto lontani a meno che non stia nevicando veramente tanto da tanto potrebbe essere immediatamente dopo come tra un bel po' dici tu quando e dove è passata direi che è passata una giornata all'incirca da quei colpi soffocati d'acetta nella bufera la neve è ancora fitta e la compagnia al tramonto si è riparata in una borgata mezza disabitata la maggior parte delle case sono dei ruderi probabilmente distrutti da un incendio abbastanza recente si direbbe ma qualcosa ha tenuto perché qualche edificio era un po' più in là c'era un po' più pietra che legno quelli vicino a un torrente si sono salvati e lì ci siamo comunque dislocati sempre con la compagnia divisa in varie in vari reparti frammentati adesso siamo sempre più vicini al nostro compito di infiltrazione quindi occorre muoversi con tutta la discrezione del caso in gioco aspetta che ci penso bene no va bene così abbiamo ho cambiato un attimo idea la scena è quella ma quello stesso plico di carte che era caduto dalla cesta di vimini ha segnato in maledizione quella cesta non porta bene non porta fortuna perché alberico ti ritrovi ad aver appena congedato il messo che nella notte si è dileguato a passo svelto nella neve per raggiungere chissà quale via di fuga e hai anche parlato hai detto quel paio di parole in più che se la figura che si staglia dietro di te di pochi metri ha sentito potrebbero averti un po' inchiodato al muro da un certo punto di vista la figura che osservi illuminata un po' in contraluce subito non la riconosci ma riconosci i bordi sfrangiati della cotta di maglia e quel sudicio panno standardo ripiegato sulla spalla con la croce rossa che appartiene senza alcun dubbio a Mathieu la mano sinistra sull'impugnatura della spalla vedi lì che ti osserva nella semi oscurità non l'hai sentito arrivare o forse era già qui era come spesso fa un attimo discosto dagli altri ti sei preso quel solo istante per raggiungere la persona che ti aveva fatto segnali durante il cammino dargli quello che dovevi e adesso sei con le mani nella proverbiale marmellata francese sei tu io sì sono io e tu no io non sono francese decisamente no intendevo chi sei temo di non seguirti ma va bene così è una domanda facile batti per il rosso un'esclusiva o ti paga anche ma che domanda è ti sei fumato qualche faccio una domanda facile ti mando mio padre una sola risposta giusta non ho rapporti con i francesi se non quando si tratta di giocare con le loro costole di solito ero qui a farmi una passeggiata cercare di schierirmi le idee ho sentito qualche rumore ho deviato dalla ronda per saltiamo la parte in cui mi racconti di Ossie sotto la neve parliamo come si fa tra persone serie se per te va bene al perico certo nel farlo però platealmente e non di nascosto scosta la spalla del mantello andando a rivelare una balestra a mano attaccata alla cintura sta bene si parla meglio quando si sa che è il caso di pesare le parole ah no no il dolore alla spalla sai con la neve l'umidità è terribile ti fa un mezzo passo dato indietro esponendo un po' meno la figura tra la lanterna che ha appoggiato e non essendo più in controluce con la lanterna che ti fa un attimo diciamo disturbo rispetto a un tiro che prima era senz'altro più pulito allora già che perché io sia un po' in debito con te denaro ah sì ma complichiamo un po' il nostro piccolo contratto ma sai che c'è non sono mai stato un uomo attaccato all'oro facciamo così francese ti addebito in buona fede mi offrirai un buon bicchiere di vino tedesco alla prima occasione ma stiamo a posto no e silenzio risponderti per un buon 15 secondi allora facciamo così io adesso vado di là e torno al campo ho finito il mio turno di guardia e sono tranquillo ti suggerirei francese di fare lo stesso magari dall'altra parte e stai attento facciamo in questa maniera va bene poi un'ultima quella nota a margine non so cosa sei venuto a fare non mi interessa granché ma so cosa sono venuto a fare io a un certo punto ti chiederò una mano magari e magari lo farei anche tu e sapremo che dividiamo con le verità e non tutti al campo potrebbero voler accettare e magari entrambi dobbiamo fare cose che un paio di mani in più potrebbero rendere più fattibili il brico si morde il labbro che potrebbero valere abbastanza sai che c'è francese che tu hai di sicuro le rotelle che girano in un senso diverso non so se stai implicando qualcosa sul rosso no non mi interessa sono venuti a fare sono qui per una persona per essere chiaro in questo piccolo gioco a entrare in città potrebbe finire male oppure no vorrei che così non fosse se a un certo punto avessi due mani in più mi farebbero molto molto comodo ti guarda torno alberico io vado di là allora poi io di qua in discesa è più comodo mani piedi testa ti servirebbero molte cose probabilmente ma non credo che sia questa l'occasione per parlarne in mezzo alla bufera con la spalla che mi duole stami bene francese mi raccomando la neve è pessima per i dolori facendo un passo dietro una colonna tenendo la spalla sempre in posizione di guardia e lo vedi arretrare verso la boscaglia senti il crack dello strato di neve pestato dagli stivali non so se tu te ne vai dalla stessa parte ma lui sempre intenzionato a farlo io fingo di andare nella direzione che vi ho detto dopo un po' la cambio ancora con un pugnale in una mano e la balestra che vado a caricare nell'altra torno verso il campo clima sereno ha qualcosa da aggiungere direi che possiamo anche chiuderla lì no no dicevo solamente che ci stiamo come dire preparando alla battaglia con una vera squadra un clima sereno e condiviso di fiducia reciproca mi piace assolutamente ci sono tiprodromi di una vittoria sfolgorante mi piace tantissimo finiamo ad ammazzarci tutti a vicenda comunque in lontananza sapete quando ogni tanto la neve fa questi strani accheggi che non sapete bene non si sa bene da dove arriva il suono in lontananza probabilmente dall'accampamento c'è il vocione di Conrad che sta cantando mentre cucina e l'ho tapito a cena esatto sta cantando una canzone fantastico esatto sta cantando una canzone e arriva spezzettata mentre voi avete questo scambio amichevole amorevole è questa canzone che canta di due soldati che si incontrano senza saperlo dopo che la guerra è finita i signoroni hanno dichiarato che la guerra è finita però si uccidono comunque dormi seppolto in un campo circa ma quasi bene 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 credi in questa guerra? sì sono venuto a combatterla e stai anche tentando sì ma la domanda è tu stai credendo in una guerra ma in che guerra stai credendo? io la butto lì diciamo che quello che è venuto a fare il rosso è l'unica è l'unica maniera per quello che voglio fare io quindi in realtà ci stai credendo come uno strumento non come il fine ma come però ci stai credendo l'unico strumento mi piace l'unico strumento possibile però ho un'unica stilettata avrei dovuto pensarci prima secondo me il tema della punizione però in questa manca sì volevo metterlo di più doveva essere un po' più lungo forse sul dialogo doveva essere doveva passare il fatto che sono venuto per punire qualcuno ma mi è un po' passato di mente comunque considerate che il sentimento del passo c'è è una regola ma la come dire la domanda finale è se hai risposto alla domanda come anche la frase rituale non stai andando incontro al tuo destino riguarda il fatto che non stai seguendo la domanda del del turno ok quindi come direi il sentimento del passo è un'indicazione però più debole rispetto alla domanda ci sta comunque comunque come padre tra le figlie con sti balestrini a mano eh ebbè ho imparato è la stessa balestra capito assolutamente aspetta che venga fuori la domanda cosa hai perso di valore per te aspetta aspetta allora continuiamo a pescare spade una quantità incredibile di spade ed estraggo una carta dal mazzo del destino ed è un asso di denari uh cosa hai visto rubare cosa hai visto rubare punizione mi piace ci sta allora è scesa questa neve improvvisa nonostante la stagione uno è veramente un pessimo tempo temporale con tuoni e fulmini quindi probabilmente dopo dopo la nevicata lo sbalzo termica è cosa è buttato in come dire in un violento temporale temporale estivo noi ci stiamo muovendo adesso anche un po' lontani dalle vie principali di comunicazione e la scena si svolge probabilmente stiamo levando il campo anzi no non ci stiamo muovendo perché il tempo lo impedisce però diciamo è comunque prima mattina si doveva partire presto in realtà è impossibile muoversi con questo tempo e la scena si svolge nella tenda di Conrad e c'è Conrad o Akumar ovviamente c'è un un giovane del posto che è un come dire un un ragazzotto di campagna probabilmente che con un sguardo abbastanza come dire abbastanza fuori luogo impaurito e Mathieu che Conrad sta trascinando lì sostanzialmente sono venuto a prenderti e ho portato queste due figure tutti quanti nella tenda di Conrad e inizio dicendo dopo che un tuono alle spalle ci ha storditi tutti e mi ha obbligato a ridire quello che stavo per dire e dico stavo smontando il turno di guardia quando questo e tutto il ragazzo in mezzo alla tenda l'ho visto sgattaiolare dove tenete la dispensa dove avete la cassa con la carne secca e le patate non so cos'altro ci tenete Conrad ma ci penso di siano dannazione questo è grave e stava sgattaiolando lì e li voleva rubare e poi mi giro verso Mattie e dico io l'ho solo trovato e adesso dovete sbrigarvela voi che sapete come andare e in realtà guarda tutti e due non guarda solamente Mattie che è l'ufficiale ma guarda anche Conrad perché non so perché ma immaginatevi che nella mente semplice ha detto questo stava rubando cibo quindi vado dal cuoco Conrad fa scaldandosi un po' le mani su un braciere al centro della tenda poi immagino qualcosa del genere ho visto negli ultimi tempi ho visto gente prendere accettate sul collo per molto di meno si riferisce ovviamente all'altro ragazzo che è il corriere che è morto e Boakbar fa sì con la testa come per dire eh sì eh sì e fa un segno di croce io alzo un sopracciglio senza capire ma non riesco non tagliatemi la testa la testa che hai rubato del cibo non ho rubato del cibo non ho cibo addosso l'avrai mangiato stavi rubando del cibo quindi lui stava rubando del cibo e indico voi sai capirei la fame tutto sommato ma se c'è una cosa che davvero non supporto sono gli stupidi e i bugiardi e mi sembri entrambe le cose in questo momento eh sai che cosa fanno i ladri dalle mie parti non lo so non sono un ladro in ginocchio il ragazzo lo serve a Wojkmar e gli fa in ginocchio Wojkmar per un attimo sta per solidere poi diventa serio e guarda Mattia come per dire serio Mattia fa un paio di passi e quell'aria di qualcuno che questa cosa l'ha già fatto gli viene naturale molla un calcio sul retto del ginocchio del ragazzo veramente forte da fargli del male andolo per terra praticamente in ginocchio rotola signore avremo avremo bisogno di una mano per portare tutto quello che dobbiamo portare una sola allora possiamo togliere l'altra vedete Wojkmar è dubbioso c'è Conrad che fa a Wojkmar quanti virs te l'ha rubato Wojkmar fiuta la cosa e dice dalle mie parti un contadino senza una mano lavora per metà il ragazzo può darmi una mano per trasportare quello che dobbiamo trasportare gli ultimi chilometri si separano sì assolutamente potremmo risparmiare un po' di fiato a me sta bene e ve lo guardo con sguardo al limite di quello di dire a me sembra una buona idea che è il massimo a cui può arrivare come dire pianificare un piano tipo un ceppo al piede però non voglio che abbia la buona idea di stare a correre quando nessuno di noi ha il tempo per andargli dietro e Conrad fa io credo che in questa in questa in questa squadriglia siamo già tutti puniti abbastanza e si volta via sbadumo tuono sull'esterno immaginatevi che ditisce tipo la fine frase e tutti quanti per un attimo si bloccano poi tenersi le mani Conrad la lascia lì così cioè per dire ha capito che ci pensate voi e lui si scalda le mani sul bracciere basta tenerti le mani ma dovrai adoperarle per noi per essere d'aiuto per fare tutto ciò che ti verrà detto indico l'uomo attorno a lui assolutamente aiuterò indica Volkmar però non so come si chiama lo aiuterò insegnerò il mestiere imparerò il mestiere sotto la tua responsabilità Volkmar figlio di Gretchen ricordatelo perché io me lo ricorderò ti esce dalla tenda senza aggiungere niente altro Volkmar guarda il ragazzo e dice ti è andata bene Conrad sa cucinare e Conrad fa sì ti è andata bene perché se fosse stato per me ti avrei tolto un dito per Wurstel e per un po' di giorni ci sarà ancora da mangiare poi dipenderà dalla grazia di Dio se vinceremo la nostra battaglia e si mette una mano sul giusto accore sbattendo il petto e si sa che sta come dire sbattendo portando la mano al al contratto che ormai vede vicino alla punta delle sue dita che è alla fine fine il motivo per cui si sta facendo anche più baldanzoso e più sicuro di sé Chiudo la scena Sì credo sia stata punitiva sì C'è anche la domanda diciamo che era era proprio la sua L'ho presa semplice perché ci stava anche una cosa non volevo complicare da come dire a livello di spionaggio da guerra fredda la scena e quindi sono andato proprio sul come dire sul terra terra però secondo me ci sta anche considerando la neve e tutto il resto ci stava anche proprio un po' di povertà materiale sta anche perché dà un po' l'idea del fatto che comunque c'è un minimo di umanità nei personaggi residuo da qualche parte ok e d'altra parte considerate che Volkman dice se devo diventare un signore devo anche cominciare a sapere come amministrare e adesso ha un suddito il tuo primo ma e sarà l'unico perché tipo morirà tra 20 ore appena andiamo in battaglia però va bene adesso una considerazione dato che l'ultima scena dell'atto è di Nilo se faccio bene i conti sì il passo scusa considererei la possibilità magari di avvicinarsi anche come nove cioè beh considera che questo è l'ultimo prima dello scontro finale questo può avvenire io me lo immagino nelle campagne immediatamente adiacenti a fuori fuori dalla città all'arrivo quindi siamo lì in quel come dire la distanza è relativa nel senso che può essere come dire in mezzo al nulla però in linea d'aria se è a tre chilometri da una città siamo comunque in un momento in cui le città non si facevano preannunciare più di tanto quindi può essere vicino ed essere ancora in mezzo al nulla era giusto per dire che da adesso in poi a parte questa scena tutte le prossime saranno la prossima si apre con la battaglia sì sì il prossimo atto è la battaglia e domande di turno domande di chiusura del turno credi in questa guerra sì quindi non aumento lo sconforto e se dite che ho risposto alla domanda di turno non segno cicatrice o altro sì sì quindi adesso sta Anilo pescare una carta ok mazzo destino tiriamo fra la carta ah sempre spade asso di spade comunque cos'è è già capitata sì mi è già capitata proprio a mezzo allora se è capitata già a te stesso puoi ripescare un'altra carta esatto la ripesco oh sempre spade basta spade comunque sei di spade di chi ti puoi fidare di chi puoi fidarti di chi mi posso fidare in questo gruppo di di spie di e di scalatori sociali comunque eh questa è una bella domanda appunto di chi mi posso fidare ma è già uscita anche questa per qualcun altro giusto per notte di regolamento è uscita per me è uscita per Dario ma se esce per un altro soldato di turno tu comunque la devi fare con l'eccezione dell'ultimo atto in cui in realtà poi ci sono delle regole speciali che ti dicono che sei molto più libero nell'accettare o riformulare una domanda di turno ma lo vediamo dopo ok e poi dopo devo ancora il tempo atmosferico devo capire nebbia con un 6 nebbia ok dunque ci stiamo siamo a pochi passi di quello che della battaglia essenzialmente e sì siamo nella campagna è difficile descrivere qualsiasi cosa perché c'è bianco in area c'è bianco sul terreno c'è bianco addosso a noi e chi c'ha armatura chi c'ha solo pelli eccetera comunque se c'è bianco dovunque neve dovunque è nebbioso dovunque ormai è arrivato l'inverno nella nostra marcia e immagino che tra un po' questo bianco diventerà rosso comunque devo capire di chi mi posso fidare e ci sto ci sto ci sto pensando a come a come metterla questa cosa vorrei che vorrei che fossero tutti presenti comunque i personaggi adesso basta flashback sì perché tu hai fatto tutte quante le domande praticamente con spade quindi giocando una vita in flashback sono sempre andato più indietro e dunque dunque no stiamo nel presente tanto per cambiare e ci sto sto pensando vado a ruota libera spiego cosa sto pensando perché vorrei fare una qualche tipo di scena che comunque ci metta in un qualche modo o su un fronte unico o che ci faccia capire cosa vogliamo perché da quanto ho capito abbiamo diverse motivazioni cioè c'è chi ha pure delle missioni alternative però sto io non ne sono a coscienza anzi forse del francese Conrad può sapere qualche cosina visto che ci siamo fatto un minimo di confessioni nello scantinato di vino da quanto ho capito anche se abbiamo glissato su quanto ci fossimo confessati e poi ti hai un po' tolto dalle castagne sul fuoco diciamo quando eri a difendere la taverna diciamo che forse un minimo di rapporto sì d'altra parte sempre facendo mente locale d'altra parte ho visto con Conrad ho avuto anche l'opportunità di vedere Alberico che mi chiedo cosa ne penserebbe suo padre di certe cose che sta facendo perché non mi è completamente tornata tutta quella scena nel bosco con il ragazzo e la cetta e le pergamene dunque effettivamente potrei dire non mi fiumi nessuno però vabbè devo comunque fare una scena come risposta sì però devo fare una scena posso darti un consiglio secondo me se fai con tutti rischia di essere dispersiva prendi un rapporto scegli un rapporto e poi nel caso magari inseriamo un PNG che permette di soffiare come dire in qualche modo di far spalla un rapporto specifico però così secondo me si riesce a focalizzare un po' meglio Fabio dice da fuori campo le cose vanno accettate sai che cosa scelgo scelgo te Volkmar scelgo te oh addirittura quindi volkmar scelgo te siamo in avanscoperta in questa gran nebbia probabilmente poco vicino a noi ci sono i nostri compagni solo che non si sentono non si vedono se già prima era cambiare mondo a fare cinque passi proprio adesso è proprio essere essere in una diversa dimensione essenzialmente come essere in una specie di limbo ok in questa scenetta dove noi siamo sopra ad un muretto che porta chissà dove probabilmente alla battaglia e dietro di noi ci sono i nostri compagni da qualche parte anche forse un po' più in giù del muretto un po' più in su insomma siamo lì a questo muretto scavalcando che ne so i muretti i muretti a seco che dividono le che ne so i territori di caccia ad esempio della della magione verso cui stiamo andando quindi siamo proprio a pochi a pochi minuti dall'obiettivo esatto è che mi stavo chiedendo chi è il lago sulla bilancia tra i personaggi di Dario e Fabio che sono entrambi hanno qualcosa di un po' di losco eh Volkmar ok se mi chiedo di chi fidarmi e dunque all'inizio ci siamo ritrovati con con Volkmar che magari era un po' preso un po' in giro da 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 Conrad ma adesso la cosa si gira perché Conrad ha bisogno di un consiglio di di Volkmar ed essenzialmente siamo lì sull'ennesimo muretto forse ci stiamo stancando un po' di scavalcare i muretti e cose del genere ci siamo fermati un attimino e siamo lì seduti e c'è c'è Conrad che stappa una bottiglia te la passa e e c'ha anche della carne secca ed essenzialmente la la strappa in due la taglia con un coltellazzo e ci fermiamo proprio quei due minuti prima di andarci ad ammazzare Lady Volkmar per accettare quello deve appoggiare la come dire l'ascia che porta che dal fianco adesso portava in mano e vedi per un attimo la gira in mano guardandola ancora un po' indeciso perché sostanzialmente lui continua a vederci un attrezzo agricolo e si sta convincendo che in realtà sarà un'arma da guerra la appoggia con un certo sollievo e accetta accetta il bere il cibo e poi ti guarda come per dire strano che tu condivida cibo e li bagioni con leggerezza cos'è? sì perché poco prima stavamo ammazzando uno che gli stavamo tagliando una mano perché ha rubato un burstel però tra l'altro lui è con te mi chiedo se lui è con te tu hai il potere di definire la scena se lui se secondo te c'è se no l'abbiamo perso qualche metro indietro probabilmente è con te visto che lo stai trattando come nuovo tra virgolette suddito e l'aveva interpretato Fabio prima giusto? Dario perché Fabio era Dario ok sì sì Dario scusa continua pure su quel trend e dice c'è qualcosa che stai nascondendo o lui fa un pezzo di carne con i denti scusami e lo passa al ragazzetto sì sì ma anche anche il anche la la sta sta tarichetta di vino che viene viene passata il vino è caldo è del glue vine senza il vino riscaldato ok il ragazzetto prende tutto quello che puoi e ne approfitta dice dice perché perché prima di fare quello che stiamo per fare che non siamo sicuri se ne usciremo vivi è meglio condividere tutto con tutti mettere le carte tentafola e soprattutto non morire con stomaco fuoto e prende anche lui un grosso morso e un un sorsone di glue vine e poi lo ripassa essenzialmente sia il vino sia che la carne secca diventa sempre più piccolo il pezzo e quando il pezzo andrà a sparire insomma daremo la carica probabilmente con gli altri immagino che stiamo aspettando il segnale da un qualche nostro superiore di caricare quello che stiamo facendo il luogo che stiamo per caricare e dice ma tu hai visto il francese al perico tu hai visto ignora che c'è il ragazzo lì vicino che sente tutto tu hai visto c'è qualcosa che non mi torna di cui tu io non so di chi fitarmi ed è brutto andare in battaglia senza sapere di potersi fitare completamente dell'uomo che hai sulla tua spalla destra o la tua spalla a sinistra o anche dietro di te Volkan fissa un po' il vuoto e vedi che per un attimo le spalle gli cadono come con un peso addosso dice scotendo la testa io non sono mai stato in battaglia quindi quindi non lo so ma vivo da da quando ricordo in un mondo in cui la gente come il francese mi dice cosa devo fare come dobbiamo farlo quando possiamo farlo oppure la gente come Alberico passa prende quel che vuole e se ne va e io sono stufo di vivere così c'è ancora qualcosa da campare e voglio camparlo in modo diverso quindi non lo so io non mi fido di nessuno ma è una vita che obbedisco è più semplice io una volta e continuare questo consumare di questo piccolo ultimo pasto che ci abbiamo io una volta mi sono fidato di Jürgen padre di Alberico e ci ripensa senza in realtà esprimersi sul fatto che forse si pente di essersi fidato di lui ad alzare quel pentolone vuoi fare uno sguardo stupito come per dire oh il mondo è piccolo a volte Folkman è facile che le storie del passato vengano a persecutarti come un fantasma che guarda il giovane e poi spezza questa scena e ride sguaiatamente sbattendo l'ultimo rimasuglio di questa tanichetta di vino caldo sbattendolo addosso al giovane che li ha seguiti che finalmente finisce stato in silenzio maniare assolutamente sì e fai tu ragazzo ti fidi di me certo sir ti fidi di Folkman qui mi fido di sir Folkman ti stringe la spalla fortemente come non puoi dire di no ma non mi fido del francese annuisco e cerco di capire se ho detto una cosa che viene vagamente condivisa in caso contrario smetto di annuire all'improvviso in questo periodo storico soprattutto in questa locazione geografica credo che sia un luogo comune non sia un falso passo in nessuna occasione ti può dar su ai francesi dunque non preoccuparti credo che finisca così dicendo allora stacci vicino stai vicino a noi ci difenderemo la vita vicenda e poi vedremo chi starà ancora in piedi e Borbara alza un brindisi e fa questa cosa tipo abbastanza come dire su più livelli perché alza un brindisi nel contempo fa un segno della croce e per farlo deve spostare la tazza dalla mano destra alla mano sinistra quindi è un po' goffa come cosa però è su più livelli come dire per me è finito hai risposto alla mia domanda ci sta ah non credo in questa guerra credi che è di sconforto e giù di sconforto ho risposto alla domanda quella del se mi fido di chi mi fido è che quando le cose si metteranno male sai di chi puoi fidare adesso di nessuno speri di saperlo secondo me ci sta effettivamente di nessuno nel senso che neanche di 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 Korra di scusa di Volkmar apertamente ti fidi però è come dire il il mi normale che che ti può capitare secondo me ci sta perché anche la risposta non mi fido di nessuno è assolutamente lecita ok dunque niente cicatrici solo tanto sconforto ok a questo punto probabilmente suona il corno e siamo allo scontro finale gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti potete rimanere in contatto con questo progetto su facebook instagram e alla mail gente di ruolo chiocciola gmail.com per commentare criticare chiedere e suggerire sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere fatelo conoscere date una mano a diffonderlo ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare